In un commento che non ha certo risparmiato il sarcasmo, Antonio Ricci, il celebre volto di striscia la notizia, ha fatto una dichiarazione lapidaria riguardo alla notizia della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Con una fredda ironia, ha previsto che un giorno la Meloni avrebbe apprezzato il piacere che le aveva fatto. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Queste parole di Antonio Ricci, rilasciate all'agenzia di stampa ANSA, sono giunte poco dopo il clamoroso scoop pubblicato da Dago Spia, che ha svelato la conclusione del rapporto professionale tra Giambruno e Mediaset. Il commento di Ricci non può certo essere considerato disinteressato, dato che il suo celebre TG satirico ha trasmesso gli audio dei fuori onda in cui Giambruno intratteneva discutibili conversazioni con alcune collaboratrici. Offrendo uno sguardo dietro le quinte che ha suscitato notevole clamore mediatico. Questi scottanti fuori onda hanno acuito la tensione nella vicenda. La Meloni ha annunciato ufficialmente la fine della sua storia con il padre di sua figlia, Ginevra, una relazione iniziata nel 2014 e caratterizzata da alti e bassi, che ha attraversato quasi un decennio. Nel suo post sui social media, la Meloni ha espresso la sua determinazione a difendere Giambruno, anche se ha ammesso che a volte ciò risulterà estremamente complicato. Nel frattempo, le intenzioni di Antonio Ricci, considerato l'unico vero intoccabile all'interno di Mediaset, stanno mettendo a dura prova l'equilibrio all'interno dell'azienda.